Buona giornata e ben ritornati negli studi di Teleradio Pace, in questo 4 gennaio siamo alla seconda edizione del nostro Tg Rassegna Stampa, la buona giornata da parte di Marco Revello che saluta e ringrazia previamente il regista Paolo Solari, oggi salutiamo anche Alessandro Bavestrello, Andrea Capitani invece in redazione, ha fatto un po' un collage di nomi e andiamo subito a proposito di nomi a vedere quali sono i santi ricordati e festeggiati in questo 4 gennaio, Sant'Angela da Foligno, terziaria francescana, però era abbastanza diciamo vicina proprio alla redice, all'origine, cioè San Francesco, infatti è vissuta tra il 1248 e il 1309 e poi ancora Sant'Elisabetta Anna Baleile Seton, Beata Cristiana da Santa Croce e ancora San Emanuele Gonzales Garcia, Santa D'Afrosa di Roma, sposa e martire, Beato Tommaso Pumptri, sacerdote e martire, Santa Farailde di Gan, San Gregorio di Langr, Santa Bruncolo, Santa Benedetta e i Santi Ermetecaio Martiri, San Ferreolo di Hutz, San Rigoberto di Reyn e San Rigomero Vescovo. Auguri quindi a tutti coloro che oggi festeggiano il loro Santo Patrono oppure chi oggi ricorda e festeggia quindi solennemente un anniversario o una lieta ricorrenza o naturalmente coloro che oggi compiono gli anni, questo 4 gennaio che per fortuna nostra si apre con una situazione molto diversa da quella che abbiamo vista negli ultimi giorni. Ormai non eravamo più abituati a vedere il sole, oggi lo faremo per qualche ora per fortuna ma in una situazione sempre di mare piuttosto agitato, lo vediamo nell'immagine che ci sta proponendo Paolo dalla regia, dalla collina delle Grazie vediamo appunto il mare agitato ma vediamo anche che sta arrivando il sole quindi alzando la telecamera verso est possiamo dire che questa mattina l'alba la vediamo molto molto bene, il sole arriva davvero davvero forte senza essere ostacolato da nuvole, forse qualche velatura in alcune zone della nostra regione però assolutamente una giornata che sarà caratterizzata da cieli piuttosto sereni, almeno questo fino a metà pomeriggio, poi da metà pomeriggio sera in poi le cose cambieranno con l'aumento delle nuvole perché si avvicina al nostro territorio una perturbazione, infatti dopo quella di Capodanno, quella di San Silvestro arriva un'altra perturbazione, una perturbazione che però questa volta sarà anche un po' più importante, sarà anche più caratterizzata da precipitazioni piuttosto forti e non solo sarà caratterizzata anche dall'arrivo della neve, la neve che tornerà ad imbiancare le vette delle Alpi Liguri, quindi si parla di zone dell'entroterra di Imperia, poi Val Bormida quindi qualcosa anche sul Savonese, molto probabilmente si fermerà diciamo al centro della regione, la neve al momento non viene prevista sull'Appennino del Levante però non è detto, non è detto che poi nella giornata di domani oppure soprattutto nella sera, notte, tra domani e sabato ci sia la possibilità di fiocchi di neve anche sulle vette delle nostre zone, quindi degli Appennini Liguri. Vediamo che invece sta nascendo il sole anche nel Ponente Ligure e qua nasce dal mare mentre da noi nasce dietro i monti, quindi nel Ponente abbiamo questa diversità chiaramente di esposizione e anche qua il mare è mosso ma non come nella nostra zona, cioè il Levante Ligure è chiaramente più soggetto al flusso da sud-ovest e che si infila meglio nel nostro golfo e appunto si può avere, qua sentiamo anche addirittura l'effetto sonoro del mare che si frange, beh bellissimo, anche con l'effetto del mare, accoccolati ad ascoltare il mare verrebbe da cantare stamattina, ma andiamo invece a vedere le temperature, le temperature che sono molto basse, intorno allo zero sulle vette dell'Appennino, Montebue 1785 metri 0.1 in questo momento ma la minima è stata di meno 0.7 alle 4 del mattino, 1.1 la minima sul prato della Cipolla, 1.2 a Roccadaveto, le temperature sono decisamente negative invece sulla bassa parte dell'aveto proprio perché, l'abbiamo già detto, con la pressione più alta, oggi avremo pressione un pochino più alta anche se temporaneamente, abbiamo questa spinta dell'aria fredda verso il suolo e qui abbiamo le temperature negative, meno 0.7 a rezzoglio basso e meno 0.7 anche a cabanne di rezzoglio, certo non sono temperature da Siberia, sono temperature così giusto da Appennino Ligure però va bene, nel senso che più o meno l'inverno è questo, meno 1.2, questa è la località più fredda di quelle censite dalla Limet nella notte, meno 1.2 a Parazzuolo di Rezzoglio. Passiamo adesso invece in Valle Sturla a Belpiano con 6 gradi 0.8, non pervenuta la temperatura della Val Graveglia, allora andiamo in Val Fontanabuona, anche qua temperature un pochino più basse rispetto a quelle registrate nelle ultime notti, fa Valle di Malvero 5 gradi 0.4, 5 gradi 0.2 a Pezzonasca di Moconesi, 7 gradi 0.8 a Piendi Preti di Tribogna, 8 gradi 0.1 a San Colombano, 7 gradi 0.7 a Villa Uneto e scendiamo sulla costa dove le temperature sono scese a volte anche di 2-3 gradi perché ricorderete che ieri mattina a quest'ora trovavamo già i 13 gradi, 12-8 insieme eccetera, quest'oggi invece siamo su temperature che spaziano tra gli 8 gradi e mezzo e gli 11 gradi e 9 ma giusto una eccezione quella di Moneglia, ma andiamo con ordine con 10 gradi 0.1 alla Santa Margherita Ligure, 9 gradi a Rapallo, 9 gradi 0.6 al Porto di Chiavari, 7 gradi 0.8 a Berissi Lavagna, 8 gradi 0.9 a Sestri Levante e poi a Moneglia 11 gradi. Andando invece sul Golfo Paradiso, Ruta di Camogli con 10 gradi 0.3 a Nervi, 10 gradi 0.9 e poi andiamo nella zona interna del centro di Genova, Marassi 8 gradi e mezzo, sul Ponente a Pra invece 11 gradi, quindi temperatura un po' più elevata, temperature basse anche sulla costa di Savona. C'è le Ligure 8 gradi e mezzo, mentre ad Imperia abbiamo avuto 6 gradi 8, 10 gradi 9 a 20 miglia. Nell'estremo Levante alla Spezia 10 gradi 0.4. Quindi ci aspettiamo un peggioramento meteo nella giornata di domani, quindi il tempo di festeggiare il ritorno del sole e già siamo sotto la pioggia. Domani davvero sarà una perturbazione che ci centra abbastanza in pieno che porterà quindi a una diminuzione delle temperature. Quindi queste temperature che abbiamo visto oggi poi le vedremo forse ancora domani ma poi dimentichiamocene perché avremo temperature nei prossimi giorni un pochino più invernali. Sapete che quest'anno è caratterizzato da un inverno abbastanza caldo, il periodo di Natale è stato al di sopra delle medie stagionali anche di 5-6 gradi, stiamo parlando davvero non di un grado e mezzo, due, di 5-6 gradi e a volte in alcune località anche di 10 gradi perché laddove le temperature andavano sotto zero e quest'anno invece siamo stati sui 8-9 gradi, capite bene che insomma la situazione è un po' particolare. Andiamo ai giorni dell'Iran, così titola oggi avvenire, c'è oggi in tutti i quotidiani internazionali purtroppo il sospetto che quello che si temeva possa succedere davvero, cioè un allargamento del conflitto tra Hamas e Israele che coinvolge anche i paesi vicini, anche il Libano, anche l'Iran, anche la Cisgiordania. I giorni dell'Iran è appunto per l'attentato terribile, doppia esplosione vicino al mausoleo di Soleimani che era stato ucciso in un raid degli Stati Uniti, oltre 100 i morti, Teheran minaccia vendetta dura, Israele nel mirino di Hezbollah per l'attacco a Beirut, quindi insomma siamo in una fase in cui c'è un po' il tutti contro tutti ma soprattutto, lo abbiamo già visto, il mondo sunnita contro l'Occidente, questo ormai è chiaro. Si alza ulteriormente la pericolosa tensione tra Tel Aviv e Washington da un lato e l'asse sciita dall'altro. Appunto siamo appunto in una situazione non troppo favorevole al dialogo sulla pace, alla tregua, quello che invece si sperava nei giorni scorsi. E poi ancora la solitudine dei sindaci, accoglienza abbandonata ai primi cittadini bipartisan, cioè di tutti gli schieramenti, anche degli schieramenti vicini al governo, si riferiscono al governo in carica e dice perché non ci si confronta sulla questione dei migranti. L'inchiesta cattolici in politica a viaggio tra diaspora e nuovo impegno e ancora dalle carriere al mutuo pesa molto il children gap, cioè le famiglie più sono numerose più hanno problemi sia a vedersi accordare dei mutui sia per esempio per i papà, per le mamme fare carriera perché questo fatto delle famiglie un po' troppo numerose e per numerose non si parla di dieci figli ma si parla di tre, quattro figli perché la regola ormai è uno o due figli, quindi già la famiglia da quattro figli viene considerata una famiglia numerosa e lo è comunque perché appunto nella media è molto più elevata appunto a delle penalizzazioni importanti sul settore economico. Non parliamo poi di quello che è la questione fiscale ma parliamo proprio delle piccole cose della vita, dal mutuo alla carriera eccetera. Missionario tra i Varao, Venezuela ha trovato morto padre Yosef e ancora guerra in Ucraina dalla Russia lanciati oltre 500 missili perché c'è anche la guerra in Ucraina, ce lo ricordiamo poco ma c'è anche quella. Procreazione, l'argine legge 40 nell'inserto di oggi evita appunto di avvenire. Per quanto riguarda invece l'editoriale oggi si parla di detenzione, la prigione non è vendetta sulla disobbedenza pacifica, questo genere di norme spia appartiene all'articolo 18 del disegno di legge in materia di sicurezza in cui si introdurrebbe nel codice un nuovo reato, la rivolta in istituto penitenziario. Adesso andiamo invece sulla prima pagina del secolo XIX, il giorno nero dell'Iran con il terribile attentato e più di 100 vittime, Nasrallah minaccia Israele, promette vendetta e Washington dice noi non centriamo, la lunga mano di Israele contro i nemici, il blitz anti-Ammas che è avvenuto a Beirut un paio di giorni fa e invece sul fronte ucraino, Zelensky indebolito giù nei sondaggi ma resta il più popolare la guerra in Ucraina e ce ne siamo occupati molto poco, quindi l'evoluzione di questi ultimi mesi non è chiara molto a nessuno però insomma c'è stata una specie di svolta un po' troppo forse autoritaria da parte di Zelensky e questo forse pesa sulla sua popolarità. Balneari trattativa con l'Unione Europea, il governo torna all'ipotesi draghi, cioè dare delle gare agevolate per i concessionari in base agli investimenti fatti all'interno dell'area che si ha in concessione, cioè più uno è investito più è favorito nella gara d'appalto che andrà all'affidamento di questa zona in concessione. Questo era stato il progetto ventilato dal governo Draghi, poi non ce l'ha fatta a metterlo a punto perché ricorderete che poi il governo Draghi cadde abbastanza velocemente. Il richiamo di Mattarella spinge verso una mediazione, entro il 16 gennaio le risposte per evitare la procedura di infrazione. Gli ambulanti liguri dicono vogliamo certezze e basta con le proroghe e poi invece per gli appalti ANAS indagati Bonsignore ed ex amministratore delegato Simonini, cioè Vito Bonsignore imprenditore ed ex parlamentare e Massimo Simonini ex amministratore delegato dell'ANAS. Gli altri sette ieri non hanno risposto al GIP. Nuova testimonianza sulla strana vicenda di Biella dove appunto c'è stato un ferito. Pozzolo dopo lo sparo disse sono rovinato il deputato nei guai però poi invocò a quanto pare l'immunità parlamentare. Insomma vabbè comunque tutti sperano che questo signor Pozzolo, questo deputato si dimetta in solitudine prima di una eventuale appunto epurazione da parte della Presidente Meloni. La tragica morte simultanea di una nonna e suo nipote se ne sono andati quasi in contemporanea ma una in una casa, l'altro in strada a Genova. Giovanna Susan Biondi era la vedova dell'ex ministro Alfredo Biondi e invece l'altro Matteo, 45 anni, era il suo nipote e nello stesso giorno sono deceduti. Parla il Presidente di Messaggerie Italiane e dell'editoria Mauri, il social e il passaparola possono creare un vero best seller. Poi ci sono i rincari in bolletta, IVA sul gas ritorna al 22%, quindi in questo momento i prezzi del gas e anche un po' dell'elettricità stanno diminuendo ma dall'altra finiscono le agevolazioni, quindi l'IVA dal 5 ritorna al 22%, capite bene che è un bel aumento, quindi una beffa per i consumatori perché nonostante diminuiscono le tariffe però poi alla fine forse le bollette potrebbero anche aumentare. Anziani e scooter in Liguria, l'RC Auto diventa un salasso nel 2024, oltre 20.000 Ligure vedranno salire i costi dell'RC Auto perché è uno dei dati più alti in Italia. Quindi visto che siamo in questo bellissimo argomento, anche molto ottimista, perché è bello affrontare un anno parlando degli aumenti, aumenteranno quindi le bollette, aumenteranno anche i pedaggi autostradali e i biglietti dei treni. Ma andiamo a leggere dal secolo di oggi, a 12 la tregua finisce in anticipo, tornano i cantieri e le chiusure, le limitazioni coinvolgeranno il tratto lavagna sesto mentre le tariffe sono aumentate. Quindi attenzione perché c'è l'aumento delle tariffe autostradali che saranno accompagnate anche dall'aumento dei prezzi dei treni, cioè dei biglietti del treno. Andiamo a dire un po' tutto questo, a sentire la situazione nel nostro servizio. Nel 2024 spostarsi in Liguria costa più caro, sono aumentati i pedaggi autostradali, rincari di pochi centesimi ma che comunque pesano sui viaggiatori abituali. A Soutenti stima che siano circa 50 euro in più all'anno sottratte da 20-30 chilometri giornalieri. A rendere incomprensibili e fastidiosi questi aumenti però, spiega l'associazione, sono le motivazioni. A deciderli è stato il governo con una norma contenuta nel decreto 1000 proroghe che spiega gli incrementi con gli investimenti fatti dalle concessionarie per la manutenzione della rete autostradale. Motivazioni poco giustificabili, si segua dai profitti molto alti di queste società. Ma guardando i bilanci delle società autostradali, per prima la più importante Aspi, gli utili nel 2022 avevano superato il miliardo, i primi nove mesi del 2023 sono oltre 800 milioni e non vediamo perché un bene pubblico dato in concessione debba ulteriormente costare di più all'utente e non invece a chi ne ha avuto la concessione che comunque sia, anche se guadagna qualche centinaio di milioni in meno di utile, francamente. Mettendosi dal punto di vista dell'utente poi c'è il fatto che aumenterà il prezzo di un servizio che da qualche anno prevede diversi disagi, proprio a causa di quegli investimenti sulla manutenzione, rallentamenti, code, restringimenti di carreggiata e chiusure. Qualche novità anche per i treni, è aumentato il costo del singolo biglietto e degli abbonamenti settimanali. Per fare un esempio da Chiavari a Genova si è passati da 4,90 a 5,10 per la singola corsa e da 23,40 a 24,80 per il settimanale. Invariato il costo dell'abbonamento mensile a 70,50 euro. Aumenti che fanno parte del contratto il servizio 2018-2032 tra Regione Liguria e Trenitalia, già l'anno scorso ce ne erano stati di simile entità. Non dovrebbero però colpire più di tanto i pendolari che tendenzialmente fanno abbonamenti più lunghi. La situazione dei treni è completamente diversa da quella delle autostrade, perché innanzitutto c'è un contratto che carta canta e dice chiaramente che ogni anno bisognava aumentare del tasso di inflazione i biglietti. Le novità in positivo di quest'anno sono le agevolazioni sugli abbonamenti per gli studenti. Sulla tratta casa scuola, fino ai 19 anni sono gratuiti e fino ai 26 anni il costo è stato dimezzato. Va bene, dopo queste belle notizie date all'inizio anno così ci fanno sperare in questo bellissimo 2024, parliamo invece di altri fatti, anche di cronaca giudiziaria in particolare, perché si attende una sentenza di un processo d'appello. Allora Anidra, Chiavarese morta dopo l'intervento a Unneo, il 9 di questo mese, gennaio, riprende il processo. Il processo sulla morte di Roberta Repeto, agente immobiliare quarantenne, deceduta per un melanoma nel 2020 dopo essere stata operata per la rivoluzione di Unneo, con tecniche alternative al centro Anidra. Il 9 gennaio il Pubblico Ministero prenderà nuovamente parola, mentre la sentenza di appello è attesa per fine gennaio, probabilmente già il 23. Nell'ultima odienza è stata la volta delle difese, nell'ultima odienza hanno preso la parola i legali difensori degli imputati che hanno chiesto la soluzione per tutti. Andiamo ad una notizia luttuosa, Presidente della sezione Ampi, Egidio Minetti, se ne è andato in silenzio il partigiano Tom, l'ultimo partigiano di Casarza Ligure e appunto la notizia è stata data ormai a anche cerimonia avvenuta, quindi diciamo qualche tempo dopo, la morte. Andiamo adesso invece a parlare di polemiche amministrative, un milione di tasse in più da pagare, tagli profondi alle politiche sociali, è quello che si lamenta una delle componenti della minoranza a sessi levante, perché la minoranza è composta sia da partiti di centro-sinistra che da partiti di centro-destra, e Maria Elisa Bixi, segretaria del PD e consigliera d'opposizione, interviene sul bilancio, già assessora, hanno colpito duro su famiglie e imprese e non si sa come spenderanno le risorse in più, altro che buco nei conti, la vecchia giunta ha lasciato 800 mila euro di avanzo libero, chiaramente come sempre, quando cambia un'amministrazione c'è sempre un po' il rimbalzo delle responsabilità, avete lasciato pochi soldi, non è vero, eccetera, quindi è un po' il dibattito politico in corso, ma chiaramente oggi su questa pagina del secolo Maria Elisa Bixi spiega un po' le ragioni dell'opposizione. A questo punto invece ci colleghiamo con la redazione, dalla redazione vediamo Andrea Capitani, buongiorno Andrea. Buongiorno Marco, un saluto a tutti, un aggiornamento di cronaca che ci porta a Uscio nell'entroterra di Recco perché nella serata di ieri, nella tarda serata di ieri, vigili del fuoco di Rapallo con l'appoggio di una squadra da Chiavari sono intervenuti nella frazione di Calcinara, siamo in via della chiesa per l'incendio del tetto di un'abitazione, vediamo proprio le immagini, i pompieri hanno contenuto le fiamme alla sola copertura, riuscendo a preservare i tre piani sottostanti grazie anche all'uso dell'autoscala che è giunta da Genova. L'abitazione era in fase di ristrutturazione, non era abitata e quindi non ci sono stati feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Uscio, si sta cercando di capire le cause che hanno provocato appunto le fiamme e che hanno ridotto il tetto in queste condizioni che abbiamo appena visto. E dalla redazione è tutto, linea lo studio. Grazie, grazie Andrea e buon proseguimento di lavoro perché Andrea Capitani poi insieme agli altri colleghi preparerà l'edizione delle 12.45 del nostro telegiornale e allora andiamo avanti parlando di politica amministrativa, ne abbiamo parlato adesso da Sessi Levante, abbiamo sentito un po' la minoranza e invece a Lavagna si ascolta la voce della maggioranza, cioè parla proprio il sindaco di Lavagna Gianalberto Mangiante che si prepara a vivere i suoi ultimi mesi per il primo mandato da sindaco della città. Il sindaco appunto parla dello scalo, cioè del porto di Lavagna che ricordiamo è uno dei porti turistici più grandi del Mediterraneo, capisco la preoccupazione degli operatori ma siamo al lavoro. Due project financing per il porto di Lavagna, commissione al lavoro, studiamo i dettagli. Avremo voluto una gestione pubblica ma incompatibile con il comune che è in default, ricordiamo che appunto Mangiante ha preso in mano il comune in un momento terribile perché dopo anche anni di commissariamento il comune era davvero ridotto molto male per le finanze, per le spese che erano state fatte poi nei decenni precedenti, non si parla solo di anni ma di decenni in cui forse la gestione è stata un po' diciamo tra virgolette allegra come si dice in certi casi e comunque il comune era senza soldi, era anche impossibilitato quasi a pagare gli stipendi ai dipendenti, quindi figuriamoci a prendere in mano una cosa così complicata con il porto di Lavagna. Però appunto secondo il sindaco sono già al lavoro per dettagliare un po' la gara d'appalto e per soprattutto mettere a cantiere questi due project finances, cioè due progetti che dovranno essere realizzati da chi poi prenderà il possesso della gestione. Parliamo invece degli ultimi appuntamenti delle vacanze natalizie perché le vacanze sono ancora in corso fino a dopodomani e ci sono gli ultimi diciamo così appunto eventi che potranno portare nuovamente tanta gioia nelle nostre località. In Piazza Mazzini a Chiaveri, concerto al pianoforte a tre metri d'altezza, il piano Sky cosiddetto, è stato rimandato per maltempo, era previsto nei giorni scorsi ma per il maltempo è stato rimandato e ci sarà domenica, proprio ultimo giorno, diciamo delle vacanze se vogliamo un po' allungarle, domenica a partire dalle 17 nella scenografia a cielo aperto di Piazza Mazzini dove una pianista suonerà dal vivo, un pianoforte sollevato da palloncini colorati e portato a tre metri di altezza creando un insolito spettacolo a metà tra musica, sogno e prodigi, circensi. Andiamo invece a Lavagna, per esempio del Brunzin vero dono natalizio, boom di visitatori, anche in questa versione molto molto limitata nell'atrio del Palazzo Comunale Municipale di Lavagna, appunto è stato visitato tantissimo nonostante non abbia più la sua location diciamo tradizionale. Ancora dal secolo XI continuiamo a parlare di questo, continuiamo a parlare di eventi natalizi, Cogorno, Lavagna e Ne accolgono Gesù nel mondo, 36esima edizione del concorso dei presepi in Val Fontana Buona, la Croce Rossa di Cogorno ospita la natività tra antichi mestieri e movimenti meccanici, a Conscienti rappresentazione davanti al Comune e poi c'è anche il tagliando per votare appunto queste natività che vediamo nelle foto, anche il nostro programma si può dare di più in queste settimane dedicata ai presepi del nostro territorio. Invece si parla di statue nelle vie di tutto il paese, appunto la natività allestita anche a Serra di Cicagna, la festa vissuta in famiglia. Giuncareggio diventa presepio, le figure sono state realizzate a Carasco e poi trasportate nella località che si trova vicino a Santa Maria del Taro. Appunto sabato musica a cura degli abitanti. Poi Epifania benefica a Rapallo con la tombolata di Eldolz. La pasticceria ripropone l'iniziativa, premi offerti da molti. Ricavato andrà la Guardia Medica che ha sede proprio nella Croce Bianca Rapallese e sabato un evento chiave per il nostro servizio, dice la responsabile del servizio di pediatria, appunto di Guardia Medica Pediatrica, Angiolani. E torniamo a parlare di altri argomenti sempre dalle pagine del secolo XIX. Si fanno dei bilanci in questi giorni, bilanci chiaramente economici, i bilanci di anche quelli purtroppo a fini fiscali per determinare i redditi di imprese eccetera e si fanno anche bilanci però da altre parti, altri punti di vista, quindi bilanci per esempio delle forze dell'ordine in questo caso, sulla sicurezza. Allarme e violenza di genere in aumento i casi nel Tiguglio. Per la sicurezza il bilancio del 2023 purtroppo è negativo, nel senso che sono aumentati i reati, reati legati allo stalking, al mattrattamento, sono cresciuti del 10% rispetto al 2022, 10% la percentuale di crescita dei reati appunto legati allo stalking, al mattrattamento. L'ASL4 allarme per i giovani che abusano le sostanze, sostanze chiaramente le droghe, episodi di dipendenza anche tra i ragazzini, 20-40 anni di età, appunto la fascia in cui si registrano i casi e gli episodi di violenza di genere, 40% di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni ha già abusato di sostanze stupefacenti, quindi è tantissimo perché 40% di ragazzini, praticamente tra i 15 e i 25 anni si è ancora abbastanza ragazzini, è un dato che fa allarmare. Bilancio anche per il soccorso alpino, sentieri presi d'assalto in un anno 483 interventi del soccorso alpino nel nostro territorio, direte voi ma che ci fa il soccorso alpino in mezzo al mare, in un posto di mare? Sappiamo invece benissimo come le nostre colline ma anche quelle subito affacciate sul mare siano molto pericolose o rischiose per coloro che fanno queste gite senza essere nemmeno equipaggiati a dovere e questo succede spesso d'estate quando magari molti turisti stranieri soprattutto iniziano a percorrere per esempio le strade del promontore di Portofino, del promontore di Sessi Levante che sono anche strade abbastanza ripide e pericolose con l'infradito e via, quindi si fa presto a mettere un piede in fallo, a fare dei voli di metri, purtroppo anche riportare delle fratture piuttosto importanti, allora lì poi deve intervenire il soccorso alpino, molto spesso anche l'elicottero, quindi per una gita si mobilitano delle forze che costano anche moltissimo soprattutto a livello di sforzo umano, quindi di persone che ci mettono davvero tanto impegno per fare questo lavoro, quindi sicuramente la sicurezza e la serietà di coloro che fanno queste gite dovrebbe aumentare sempre di più anche attraverso una sensibilizzazione diversa. Picco di accessi al pronto soccorso come sempre succede durante i periodi festivi, nei giorni delle feste di fine anno, il 30 dicembre sono stati 127, a San Silvestro 118, con 23 pazienti in ambulatorio e 131 a Capodanno. Per fortuna nel nostro territorio non ci sono stati feriti per i botti, questo è importante, l'Ansl4 ha potenziato l'attività decentrata sul territorio, medico di tutti, e appunto sabato e domenica ritorna il servizio degli ambulatori sia a Rapallo che a Sestri Levante con orari importanti dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Andiamo invece a questo progetto, dopo Lavagna altri comuni si mobilitano contro l'azzardo, grazie alla campagna voluta da mettiamoci in gioco il coordinamento del Tiguglio, dopo il comune Lavagna che ha fatto un po' da apripista, due nuovi pollici in su per questo progetto che mobilita molte forze del territorio, molte forze sociali, cooperative e appunto associazioni e quindi è già una cosa positiva sia la mozione che questi comuni possano dare una mano a questa attività e sono quelli di Chiavari e di Moneglia che sono comuni importanti della nostra riviera. A sorpresa i battesimi superano i funerali, le frazioni di Rapallo sono in controtendenza, spesso parliamo di inverno demografico in Liguria e nel Tiguglio in particolare, Santa Maria del Campo, San Massimo e San Martino di Noceto, le tre comunità rapallesi che sono in crescita, non accadeva da oltre 20 anni e appunto sono tre comunità guidate da Don Davide Sacco che dice che negli ultimi anni si sono insediate qui diverse giovani coppie, l'immediato retroterra può risultare sempre più attrattivo per le nuove famiglie. Bagnasco per la successione torna al nome di Scandroglio ma un centrodestra diviso non lo vedrebbe in campo, cioè Michele Scandroglio che è stato già deputato e segretario Ligure di PDL Forza Italia potrebbe mobilitarsi, diventare il nuovo sindaco, cioè il nuovo candidato sindaco di Rapallo ma solo se le due componenti della maggioranza, cioè quelle che fanno capo al sindaco Carlo Bagnasco e quelle che fanno capo al consigliere regionale Cianci che a sua volta poi fa riferimento a Toti, si riunissero, cioè decidessero di non dividersi, cosa che invece ultimamente sembra davvero molto difficile perché alcun componente Cianci ha già dato il nome del candidato, cioè mentore Campodonico. Poi tutto è possibile quindi potrebbe appunto esserci sul nome di Scandroglio una riunione e quindi in qualche modo una coesione dell'attuale centrodestra rapallese. Santa Margherita Ligure, Bena di Forza Italia non starà con Caversazio, ho partecipato al gruppo ma non ne faccio parte, vuole appunto sottolineare Adriano Bena che appunto non sarà nella lista dell'Alternativa per Santa guidata da Guglielmo Caversazio, candidato sindaco. Sono coordinatore di Forza Italia e non faccio parte di Alternativa per Santa, anche se ha partecipato ad alcune iniziative, così ha voluto sottolineare appunto Adriano Bena. A questo punto invece andiamo a vedere gli appuntamenti di oggi nella nostra consueta agenda. Appuntamenti in agenda per giovedì 4 gennaio. Continua la rassegna a quattro borghi un Natale. Alle 14.30 dal Palazzo Fasce di Sestre Levante si terrà la partenza della visita guidata dal legno all'arte, alle xilografie di Mario e Eugenio Raffo e crocifissi processionali artistici della confraternita di Santa Caterina. Il costo è di 3 euro a partecipante con prenotazione obbligatoria all'ufficio IAT. La villa vicino di Zoaglio ospiterà dalle 16 alle 18 il laboratorio Crea il tuo Muppet, in cui si potranno costruire pupazzi e assistere al Puppet Show con Anna Lunno e Viola Villa. Nell'ambito della rassegna Natale insieme a Cogorno, alle 16 nel Parco Don Marcello Botto si terrà l'estrazione dei premi, organizzata dalla parrocchia di San Salvatore e Comitato Amici del Parco. Per il festival musicale Pietre Sonore per sonare organi 2023, alle 18 nella chiesa di San Matteo a Genova si svolgerà il concerto per organo del maestro Guido Ferrari. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Tornano gli appuntamenti della rassegna musicale Novecenti. Dalle 21 nella chiesa di Sant'Anna Rapallo si terrà il concerto con l'orchestra dell'opera Carlo Felice di Genova e il direttore Marco Angius. In programma Anton Wyvern e Paul Indemith. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Qualcuno di voi ha parlato troppo presto perché ha parlato di sole, 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 giornata meravigliosa, cielo sereno, già sono arrivate le nuvole perché comunque un po' di copertura, un po' di velatura del cielo è prevista nel corso della giornata. Quindi vedremo sì del sole e del cielo sereno ma anche delle nuvole così diciamo di umidità come quelle che vediamo in questo momento sul ponente e delle velature nel corso della giornata. Però la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile anche se ci sarà questo mare sempre agitato sul levante che insomma darà un po' di frizzantino alla giornata. Purtroppo le nostre spiagge nuovamente sono interessate da erosione perché più arrivano mareggiate da sud ovest più le spiagge ormai si assottigliano sempre di più perché ci sarà bisogno di ripascimenti importantissimi a fine inverno. Allora nel pomeriggio aumentano le nuvole soprattutto sulla zona del centro del Levante nel corso già della seconda parte del pomeriggio e durante la serata. Per quanto riguarda i venti, Forte di Libeccio di Imperiese gradua all'indebolimento dai quadranti settentrionali invece sul centro della regione, rotazione sud-est con raffiche fino a moderate nel pomeriggio e il mare come abbiamo visto molto mosso su Tiguglio e Levante fino ad agitato a largo e mosso altrove. Allora le temperature oggi comunque saranno buone perché con un po' di soleggiamento e appunto i venti che ruotano un po' da sud-est vedrete che le temperature arriveranno anche a 14-15 gradi con un'escursione termica sempre molto limitata però insomma questa notte qualche grado in meno lo abbiamo avuto. Domani non perdona questa perturbazione che ci prenderà in pieno quindi perturbazione sulla Liguria con piogge che sono previste dalla Limet anche di forte intensità e neve sulle Alpi Liguri dai 1200 metri in graduale calo fino a 900 metri, piogge in rotazione a neve in serata sulla Val Bormida limitatamente in Val d'Orba ed Erro quindi non arriverà secondo la Limet la neve sul nostro appennino di Levante però noi non esclusiamo che qualche fiocco ci possa invece capitare. Venti di scirocco fino a moderato Levante tramontate in rinforzo fino a forte sul Savonese e Genovesato con mare mosso sotto costa fino ad agitato a largo e temperature in lieve diminuzione pressoché ovunque. E grazie a Paolo Solari che ha curato la parte tecnica alla regia grazie ad Andrea Capitani che è stato in redazione e a tutti voi che ci avete seguito che seguirete anche il telegiornale delle 12.45 e se vorrete ci saremo anche domattina alle 7.30 e 8.10. Da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti.